Parlo in questa veste da cittadino, prima ancora che da giornalista. Sapete il mio pensiero circa l'ILVA? Chiusura senza se e senza ma, senza alcuna misericordia, perché il diritto alla salute è un diritto incomprimibile, come abbiamo detto. Voglio parlare del rapporto che c'è tra inquinamento e informazione, perché dobbiamo dirlo, anche l'informazione è inquinata e lo dico senza mezzi termini. Mi sono sempre esposto in prima persona, venendo anche chiamato da qualcuno, soprattutto sui social, pagliaccio di tutti i termini, Cozzaro, ma oramai i termini si sprecano. Mi è dispiaciuto che la mia voce durante la visita del Premier Conte sia stata l'unica e mi è dispiaciuto molto che qualcuno, qualche collega abbia definito pagliacciata quella che stava accadendo. Se essere definiti pagliacci e se definire il grido di dolore di Taranto è una pagliacciata, bene chiamatemi pure pagliaccio, non me ne frega proprio niente. Però questo poi la dice lunga sulla deontologia professionale di ognuno di noi. Io ho messo sempre la faccia in quello che faccio. Poteva essere molto comodo da parte mia essere uno dei tanti giornalisti, uno dei tanti reggi microfono o scribacchini, non tutti per l'amor del cielo perché ci sono tanti colleghi seri, ma sarebbe stato molto più facile per me uniformarmi alla massa. Avrei avuto tanti problemi. Io non voglio fare assolutamente l'elogio e il paneggirico di me stesso, ho tantissimi difetti, ho commesso tanti errori nella vita, tanti ne faccio e altrettanti ne farò. Però dico una cosa, io ho combattuto, quando qualcuno mi definisce pagliaccio, io ho combattuto l'Ilva, ho combattuto Riva, quando tante testate mangiavano e bevevano con l'Ilva, quando tante testate ricevevano bei soldini dall'Ilva, quando tanti giornalisti che ora fanno i moralisti erano nelle intercettazioni telefoniche di ambiente svenduto. Ricordate la mia vicenda, lo scontro con l'On. Pelillo a Bluestar e sapete tutti la storia del mio licenziamento. Ci ho messo la faccia e ho perso anche il posto di lavoro. Ora continuo con una impresa di comunicazione individuale per essere libero, libero come l'aria, contro tutto e contro tutti, insieme alla città. Questa è la cosa più bella. Voglio solo dire che ho perso mio padre di cancro, quattro mesi fa, un sarcoma, un terribile sarcoma, le sostanze inquinanti. Mio padre era un sotto ufficiale di marina, motorista navale, era corroso dall'amianto e da altre sostanze. Nessuno può dire che io voglio cavalcare la tigre o che io voglio speculare sul dramma ambientale di Taranto. Sono uno dei tanti figli, orfano di un genitore, lo dico senza mezzi termini, assumendomi tutte le responsabilità, ucciso da uno stato assassino. Perché solamente uno stato assassino può consentire di uccidere. Può consentire che Ilva Arcelor Mittal sia legibus soluta e che viva in una dimensione completamente svincolata dalla legge. Ma vi sembra il titolo significativo della manifestazione di quest'oggi? Finestre chiuse o finestre aperte, signor sindaco? Ed è normale che durante il covid si chiudono i bar, si chiude i ristoranti, si chiuda tutto. Come purtroppo forse anche giusto che sia, però Arcelor Mittal può sempre inquinare. E mentre alle 12, a mezzanotte, alle 24 devono chiudere i ristoranti, proprio da quell'ora, quando calano le tenebre e quando l'attenzione è più bassa, ecco che Arcelor Mittal può vomitare sui nostri corpi, sui nostri polmoni, tutto è il contrario di tutto. Andate a vedere un attimino i parchi minerali, la copertura dei parchi minerali e vedete come il polverino rosso li ha completamente soverchiati, a dimostrazione che i parchi minerali, quella copertura non serve a niente perché c'è il PM10. Bene, io ho concluso, voglio ringraziare gli amici, gli amici ambientalisti, quelle persone che hanno una coscienza. Taranto senza Ilva, questo deve essere il sogno di tutti, questo deve essere il monito e l'atto di coraggio che ogni genitore, e ho qui i genitori tarantini al mio fianco, questo monito che deve impregnare le coscienze quando ci si guarda allo specchio e quando si ha un figlio piccolo accanto e dire, pensare, ma io cosa faccio per il futuro di mio figlio. Concludo dicendo, una bellissima giornata, una location meravigliosa, un sole fantastico, il mare, mare, turismo, agricoltura, patrimonio culturale, sono queste le risorse di Taranto, non certo quell'industria assassina che si chiama Ilva, ma non solo Ilva, perché c'è anche Eni, ci sono altre fonti inquinanti, non è solo una questione di Ilva, le discariche con la complicità della classe politica, perché quando viene il Premier Conte, quando vengono altri soggetti istituzionali, tutti a fare i salamelecchi, da molti giornalisti ai tanti rappresentanti istituzionali. Bene, chiamatemi Cafone, chiamatemi Buzzurro, mi hanno chiamato di tutti i nomi, non ci interessa, noi siamo per una Taranto migliore, una Taranto che ha il coraggio di guardare in faccia la realtà, quando qualcuno dice Taranto libera, quando qualcuno dice, ecce chiude l'Ilva, come amma fa, veni a mangiare a casa tua, scusate l'espressione di realtà, lì io dico, e se mi viene un cancro, e se ci viene un cancro, dove mi vado a curare? A casa tua? Questa è la rabbia, è lo spirito che deve albergare in ognuno di noi, perché vi posso dire, e lo dico da figlio, ho perso mio padre quattro mesi fa, proprio andando a estremizzare il concetto, ma proprio andando a estremizzare, un panino, un piatto di pasta, forse, sicuramente, ti esce pure, ma quando ti vai a fare una radiografia, quando vai a fare una TAC, quando vai a fare una risonanza magnetica e ti vedi i tuoi polmoni inquinati, quando vedi che quel terribile male è diventato metastasi, non c'è scampo per nessuno, è questo che deve sapere il sindaco di Taranto, il presidente della regione, il presidente del consiglio dei ministri, una Taranto che deve alzare la voce, una Taranto che deve fare rumore, grazie a tutti voi, siamo e siete davvero la parte migliore di Taranto. Grazie a tutti.